Maria Teresa, raccontaci questa giornata della vita. Abbiamo pensato che celebrare i verdi significasse celebrare un italiano molto importante, ma visto con un'ottica un po' particolare, dall'ottica degli emigrati italiani che dall'amore per verdi hanno ricavato un grande senso di orgoglio e soprattutto grazie alle opere di verdi hanno imparato molto spesso, loro che erano siciliani, calabresi, napoletani, hanno imparato la lingua italiana.